BASTIA! Allora Gianfranco dà una mano in maniera importante, infatti lui versa una cifra che non possiamo dire perché si parla di cifre a 6-0 Tutti gli utili delle proprie attività vanno riversati poi nel conto corrente del BASTIA calcio, vero? E vai! A parte gli scherzi sappiamo che tu dai una mano oggettivamente in maniera importante al settore giovanile e all'organizzazione della... Il segno, indubbiamente Fai vedere le mani? Queste mani, pensate, impasteranno la torta che mangerete durante il torneo Salutiamo tutti i telespettatori di Tele internazionale Cioè ormai... Vi aspettiamo numerosi a questo torneo che ormai è la diciottesima edizione, è sempre importante e molto seguito e quindi anche quest'anno riscruterà un grande successo Però è un'edizione speciale perché a presentarla Eh, indubbiamente, quest'anno dobbiamo sfondare È stato che ci sei Fai in un'edizione speciale Fai in un'edizione speciale Fai in un'edizione speciale Fai in un'edizione speciale